Ciao a tutti, sono Matteo dalla Di Mano in Mano di Cambiago e bentornati per la sesta edizione delle novità settimanali. Due piccole cose, vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un like se vi piace questo video. Tra un paio di settimane a Milano partiranno due eventi consecutivi, prima antiquariato, una bella esposizione di mobili e novità, e poi modernariato con un sacco di pezzi di design, quindi seguiteci sui nostri canali così avrete tutte le date, orari, eccetera, eccetera, su questi eventi. Oggi, per i nostri 12 articoli, partiamo con questo grande, grandissimo direi, mobile espositore anni 50, con antealibro, devo vedere questa che avevamo preventivamente aperto, ok, mentre la parte superiore è a giorno. prevedeva delle ante, scusa, prevedeva dei vetri, che adesso non ci sono, che eventualmente si possono rimettere, eventualmente l'ultimo proprietario ha deciso di lasciarlo libero a giorno con tutto esposto, noi ve lo proponiamo per come ci è arrivato. Questo mobile ha un prezzo di 2300 euro, le sue misure che sono molto importanti sono 195 di altezza, 452 di larghezza e 48 di profondità, è un legno impiallacciato rovere e massello di faggio. Eccoci qua nell'area Selected, dato che c'è qualcuno che magari non ci conosce e non ha visto i precedenti video, questa è l'area Selected, che è un'area dedicata ad arredi particolari e di alto antiquariato design. Avevo promesso di farvi vedere questo comobarocchetto lombardo, adesso mentre Giada ce lo mostra, vi do qualche informazione in più. Allora, appunto, un comobarocchetto lombardo in noce, quindi siamo tra il 1720 e il 1770, sorretto da eleganti gambe mosse, presenta fianchi e fronte bombati, anch'essi mossi, è dotato di due cassetti, che vi apro così, farvelo vedere anche aperto, è impiallacciato in una bellissima radica di noce, è ornato con filettature in voie de rose. Gli interni sono in pioppo, le misure sono 84 di altezza, 118 di larghezza e 53 di profondità, la sua richiesta è di 9.800 euro. Prima di passare ai prossimi tre articoli, vi ricordo i miei recapiti, 351 690 4263 o assistenza clienti chioccioladimanoinmano.it vi ricordandovi che potete acquistare già oggi tutto quello che vedete nel video. Dato che c'è il famoso detto, prendi l'arte e non metterla da parte, ecco qua i prossimi tre articoli. Il primo è un dipinto del Settecento, con soggetto storico, e raffigura, questo olio su tela, non vi ho detto, una scena che si svolge presso un accampamento militare. È stato restaurato e ritelato, e le sue misure sono 81 per 130 per due centimetri di profondità. La sua richiesta è 5.200 euro. Passiamo a tutt'altra cosa, un dipinto ritratto femminile, della metà dell'Ottocento. Anche lui in olio su tela, e raffigura questa donna di mezza età vestita di nero, probabilmente per un lutto, pensiamo, restaurato e ritelato anche lui, e è in cornice dorata coeva. Il suo prezzo è di 480 euro, e le misure sono 75 per 63 per 4 di profondità. L'ultimo, il mio preferito, un dipinto ritratto maschile del 1833, di scuola francese. In basso a sinistra, abbiamo firma e data, scritte al contrario, e una scritta latina, quando ex exilio redibit, spero di averla detta giusta, e quando tornerà dall'esilio. Perché? Perché se guardiamo bene il dipinto, c'è questo legame tra il giovane ragazzo dipinto, e questo personaggio militare, che probabilmente viene aspettato di rientro da qualche guerra. La sua richiesta è di 1200 euro, e le misure sono 87 per 77 per 5 di profondità. Teo? Scusate, ma la poltrona siesta non poteva farmi questo effetto. Allora, poltrona di design, appunto, poltrona siesta di Ingmar Relling, per West Nofa, anni 80. Arriva dalla Norvegia, ed è appunto una poltrona con poggiapiedi in legno laccato, imbottitura in espanso, e rivestimento in pelle. Le misure sono 98 per 73 per 84, e l'altezza della seduta è 41 centimetri. Il suo prezzo è di 780 euro. Eccomi qua per un altro articolo molto particolare di Modernariato. Un divano poligonale, anni 80. Faccio un balzo. Dunque, divano poligonale, anni 80, produzione italiana, con imbottitura in espanso, e rivestimento in similpelle. Ha un'altezza di 144 centimetri, e una larghezza di 149, e una profondità di 149. L'altezza della seduta è 54,5. Ho il fiatone per il balzo. Il suo prezzo è di 1700 euro, ed è, secondo me, un arredo molto particolare da mettere in casa. Allora, come avete visto, mantengo le promesse, e se vi ricordate bene, questo è il piccolo stipo orientale che avevamo intravisto in un video. Siamo in Cina nel XX secolo, e adesso lo apriamo, è molto carino, con anche questo segreto al suo interno. Ecco qua. Allora, vi do qualche informazione in più. Come avete visto, due ante, all'interno presenta un doppio fondo laccato, e all'esterno è decorato, con personaggi e paesaggi orientali, realizzati, in onore della nostra cameraman, in giada intagliata. Le sue misure sono 74,52,26, e il suo prezzo è di 1230 euro. Cos'è che stai guardando? Ah, vabbè, il nostro piatto, come non ammirarlo, guardate. E' un grande piatto, a smalti cloisonné, polilombato, questo lo appoggio senza rovinare il nostro tavolo, che vi do qualche info in più. Arriva dal Giappone, è dell'epoca Meiji, quindi circa 1890, e' decorato a più ordini concentrici, con una delicata composizione di fiori ed uccelli, che ordinano, che ornano la parte centrale. Il tutto nello stile Namikawa Yasuyuki, speriamo di averla detta giusta. L'altezza è di 9 centimetri, e il diametro di 61. Visto dal vivo è ancora più bello, vi assicuro. E lo proponiamo a 2800 euro. Prima di passare al nostro prossimo articolo, apro una piccola parentesi sui tappeti. Ne abbiamo uno bellissimo sotto i nostri piedi, e Giada ce lo sta inquadrando, perché abbiamo una vasta gamma di tappeti, che potete trovare sul sito, di qualsiasi provenienza, dimensione, qualità, e sono prodotti che ci state chiedendo parecchi ultimamente, e vi diamo quest'info. Possiamo eseguire noi il lavaggio, sistemare eventualmente le frange, fare qualche sistemazione del tappeto, e, ecco, niente, era giusto per darvi qualche informazione aggiuntiva. Passiamo quindi a questo bellissimo oggetto, che arriva dalla Francia, ed è un domatore con cavallo. Guillaume Cousteau è una copia postuma, perché Cousteau nasce e muore a cavallo del 1700, mentre questa copia è stata fatta nella seconda metà dell'Ottocento. È in bronzo dorato, e sulla base troviamo la firma incussa dell'autore. L'altezza è 30 centimetri, la larghezza 29, la profondità 13, e il suo prezzo è di 1200 euro. Prima di salutarvi, ne approfitto per mostrarvi questo arredo anni 50, completo di divano, questa penisola, che funge da mobile bar, e arredo a parete, fatto probabilmente su misura, anni 50. per qualsiasi info anche su questo, vi lascio i miei contatti, 351 690 4263, o assistenza ai clienti, chiocciola di mani in mano punto it, sia per un acquisto, per un'eventuale richiesta di informazioni, niente, alla prossima!